esploriamo un attimo quest'altra parte sottostante qui a secondo il punto di vista il mio posizionamento abbiamo una migliore visualizzazione qui ci sono altre costruzioni qua mica l'aveva notata ecco altre costruzioni vedete qui è pieno alle scolze sono state qua ma non qui più sotto ecco un'altra costruzione ma qui è piena di costruzioni difatti qui c'è un'altra che è questa costruzione sotto proseguiamo da questa parte in effetti ecco altri ruderi e vede un altro caseggiato da quella parte più che un caseggiata qua era tutta una costruzione poi ci sono fabbricati totalmente demoliti ed altre costruzioni in parte insomma si evidenzia lo stato di muri originali originali qui c'è un albero di pego adesso questa costruzione andiamo a vedere